Che fare? Che fare è la domanda a questo punto. La prima cosa che faccio io è quella di non credere che esistano salvatori né salvatrici. Qui non arriva nessuno a salvarci da questa situazione. Innanzitutto devo avere la forza, l'intelligenza, lo studio per salvarmi prima di tutto da sola. E lo dico comunque con profondo rispetto per tutti gli altri videomakers. In questo momento siamo veramente migliaia e migliaia e migliaia più o meno noti. Chi è su Facebook, chi è su YouTube, chi è su Instagram, chi è su Telegram. Non è importante. Certamente è importante il rispetto reciproco. Il fatto che io non mi affidi a farmi salvare da un influencer non vuol dire che io non abbia rispetto per queste persone. Andare a Roma è una possibilità. Bisogna essere in massa però. Veramente tanti. E bisogna osservare questa meravigliosa metodologia che ha insegnato il Mahatma. La resistenza civile passiva non è, come dire, porgere l'altra guancia. No, richiede un coraggio e una predisposizione nel cuore che davvero richiede anche una maturità intellettuale. Richiede maturità intellettuale. Fare un sit-in, sedersi per terra, non spostarsi di lì, nemmeno se vengono a minacciarti con idranti, con pallottole a altezza d'uomo, nemmeno se ti prendono di peso. Ti fai portare via di peso. Tu ti lasci andare a peso morto e questi devono. Mascherine, guanti, vestiti di scuro sotto il sole, io spero un sole grosso così. Portate via. La resistenza passiva è stata vincente in India. Ma il popolo indiano ha una grande capacità di autocontrollo, di autodisciplina, che non abbiamo noi. Sono un popolo maturo, sono un popolo adulto. Altre cose che si possono fare. Trovo illegittimo, trovo illegittimo che i giochi dei bambini siano circondati dai nastri. Prima o poi, questo paese finirà di nuovo denunciato alla Corte Internazionale per i diritti dell'uomo. E siccome siamo già stati condannati, lo Stato italiano è già stato condannato per le vicende del G8. Però questo è un altro argomento, è un'altra parte della mia storia, che se necessario racconterò in un altro video. Le condizioni in cui ci stanno mettendo sono violazione dei diritti umani. No, non ci verrà mica a salvare l'ONU, no, 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 non ci salverà nessuno. Dovremo alzarci e aiutarci e salvarci da soli. E' giusto, siamo un popolo che deve smettere di essere bambini spaventati e diventare veramente uomini, veramente donne, cittadini. Grazie.